Ciao, bentornati sul nostro canale YouTube. Oggi vediamo un altro allenamento HIIT Workout, allenamento dove vuoi e quando vuoi. Oggi è soprattutto finalizzato alla parte sopra del front. L'allenamento è un hamwrap di 12 minuti, quindi as many rounds as possible, di 4 esercizi ripetuti 10 volte ciascuno. Andiamo a vedere gli esercizi. Primo esercizio, Floor Press. Avete bisogno chiaramente di due manubri. Sdraiati la schiena sul padrassino, sollevo il bacino, scendo e faccio come una panta piana. 10 ripetizioni. Secondo esercizio, che poi in realtà è l'unico per la parte sotto del corpo, ma si spendono un bel po' di caldo per farlo, è il Power Clean. Quindi vado a terra e porto alle spalle i manubri. Terzo esercizio, Rematore. Piego le gambe fuori sedere, schiena dritta. Sempre inizio ripetizione. Ultimo esercizio, che è quello che ricorra. Molto bello, mi piace molto. È la Hollow Position, la pancia in su. L'oscillazione. 10 oscillazioni. 1, 2, ok? Se è troppo forte, mi fermo. Conto 10 da questa posizione. Se è troppo forte ancora, gambe legate. E conto 10. Molto semplice. Molto semplice, ma duro ed essenziale. Andiamo a cominciare con il workout. Allora, sei pronto? Vai! Manubri! A terra! Via! Power Clean! Tch! 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 Vematore. Anche la schiena qua, eh. barchetta io le chiamo barchetta attenzione a mantenere bene il bacino retroverso qua, ok, state bene allora, green un matone Sì. Grazie a tutti. Come vedete ho smesso di parlare. L'ho fatto anche io stavamente. Io sono doppiamente scemo. L'ho fatto anche io stavamente. 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 Stavate andando ragazzi. Molto bene. Stavate andando un po' meno di metà. E questo ci consola. L'ho fatto anche io stavamente. 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 L'ho fatto anche io stavamente lo sn slavesvole. L'ho fatto anche io stavamente. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ma che ci tocca fa? Se ti è piaciuto il video metti like, commenta e iscriviti al canale. Ci vediamo al prossimo video.